qui siamo al ventasso una delle stazioni scistiche dell'appennino reggiano è la seconda tappa che abbiamo fatto del nostro tour la ricerca degli impianti smarriti cioè di quegli impianti da sci che ancora figurano anche sui siti internet ma di cui sono rimaste le tracce le tracce cosa vuol dire vi ha visto quello della romita cioè questi impianti da sci dismessi che non vengono smantellati che restano poi nei boschi il bosco dobbiamo dirlo fa la sua parte cioè nel senso che colonizza nel giro anche solo di tre quattro anni colonizza queste piste da sci e anche le impianti di risalita fatto salvo adesso chiederci di chi è la responsabilità di tutto questo visto che questo diciamo è il lato più nascosto del settore turistico e certamente sono impianti che non hanno più un futuro non più un futuro perché spesso qui l'innevamento è artificiale non è un innevamento naturale tranne che in pochi anni e sono impianti dismessi che adesso nessuno sta smantellando restano così ai posteri questi piloni queste situazioni particolari con le cabine di trasformazioni con tutti i macchinari che conseguono senza che più nessuno si stia facendo carico del loro smantellamento adesso sarà anche il nostro compito informare gli organi competenti di questa situazione per poter poi effettuare quella che è una bonifica di questi posti prima che il bosco diventa un bosco maturo quindi dover ancora entrare con un effetto molto invasivo considerando che molti di questi impianti erano dotati di bocchette dell'acqua di ovviamente postazioni per per la luce per cui ci sarà anche da capire come tutto quello che è stato sepolto sotto al bosco quindi condutture per l'acqua per l'innevamento delle piste quando non c'era la neve quindi tutti i collegamenti come smantellarli per riuscire a bonificare tutti questi siti questo era un'idea secondo noi del turismo sull'appennino piuttosto vecchi anni 60 70 che forse ha lasciato il tempo ha lasciato il tempo che ha trovato tant'è che se ci troviamo questi impianti dismessi c'è un motivo interessa situazioni scistiche sono state dismesse poche funzionano ormai la possibilità di innevamento al di sotto della quota dei 1500 metri su cui insistono molti dei nostri impianti è come numero di giorni di neve all'anno troppo modesta per giustificare degli investimenti in questa fascia dell'appennino quello che stiamo ragionando è su uno sviluppo turistico diverso basato ovviamente sul parco nazionale lo turismo un turismo a e basso impatto e che non sia così così forte come stato quello degli anni 60 70